Mi dai questo? No, voglio dire, no perché il documento con cui giro per chiedere aiuto per strada cioè io prendo, un attimo per favore, sono l'invalida civile, prendo 440 euro i 5 stelle mi hanno dato da mangiare, credimi, ma se decurtate gli stipendi avremo qualcosa noi per questo assegno sociale detassato Questa è la realtà, c'è tutto il mezzo Grillo, guarda io non mi vergogno di niente Siamo tutti i giorni con persone così, sono persone improvvisate Mattessimo Neirola, il senatore grandissimo e tutti gli altri senatori Signora, qui c'è il mio biglietto, ci sentiamo dopo Io ho bisogno di un aiuto Grillo, per favore Mi chiami che poi ci vediamo in privata Non ci credo neanche se li vedo C'è il numero, non si perde il numero Come si chiama lei? Ilaria, c'è scritto sul biglietto Bellissimo che farà la politica verso il proprio paese Grazie C'è il biglietto, basta che mi chiami Cosa pensi dei cittadini che hanno bloccato